Nel 2007, a Tutto Reality l'Isola, irrompe sulla scena come un uragano esilarante, lasciandoci tutti a bocca aperta. Un gruppo di ignari concorrenti vengono scaricati su un'isola remota. Gariggiano in sfide selvagge che li spingono al limite. E il tutto per avere la possibilità di vincere il premio finale. Se vi siete persi questo gioiello animato, non preoccupatevi, perché oggi vi farò immergere in questa fantastica serie animata. Crollerà sotto il peso della pressione a Tutto Reality l'Isola! La stagione iniziale, l'Isola, ha debuttato nel 2007. 22 concorrenti adolescenti vengono inviati a Camp Wawanakwa. Non sapete quanto è difficile dirlo. Dove si sfidano in varie sfide per vincere il premio di 100.000 dollari. La fregatura? Ogni giorno un concorrente viene eliminato dai suoi compagni durante una drammatica cerimonia del falò. E deve fare la camminata della vergogna e lasciare l'Isola. Quando arrivano al campo immerso nella natura selvaggia dell'Ontario, si rendono subito conto che questo non è il tipico luogo di una vacanza da sogno. Al contrario, vengono accolti dalla triste realtà, tutt'altro che affascinante come un campo estivo. Gli alloggi sono fratiscenti, la foresta è inquietante, lasciando intendere che il caos sta per arrivare. È la risa dei conti definitiva. I campeggiatori vengono indivisi in due squadre. Le marmotte urlanti e le carpe assassine. Il palcoscenico è pronto per le sfide epiche. La prima sfida? Un tuffo dalla scogliera di mille metri. Un caloroso benvenuto, direi. Questa sfida separa i coraggiosi dai meno coraggiosi. I concorrenti vengono gettati nel baratro fin dall'inizio e le loro reazioni variano dal terrore puro alle risate. Per poi essere accolti dalle acque gelide. Non ho intenzione di perdere la sfida perché se no ti si rovinano i capelli, viziata figlia di papà. Stai indietro, pseudo-rapper coi pantacollante strizzati della serie Io Vorrei Ma Non Posso. Come se il tuffo dalla scogliera non fosse abbastanza, l'episodio è costellato di interazioni stravaganti tra i campeggiatori. Dall'impacciata Beth all'ansesso DJ, il mammone, e al ribelle Duncan. Il variegato cast di personaggi offre un divertimento senza fine. Se pensavate che il tuffo dalla scogliera fosse l'unica prova, ripensateci. La scena si intensifica quando i concorrenti devono ancora fare una volta appello al loro Io Temerario. La sfida riprende, ma questa volta si tratta di sconfiggere le paure e dimostrare chi ha più coraggio. Immaginate la scena. Beth, la campeggiatrice dolce e un po' timida, ed Esichiel, il ragazzo di campagna che non si sente del tutto a suo agio al di fuori della sua zona di comfort. Questi due ore si trovano sul precipizio di un imponente scogliere di mille metri. Beth, nonostante le sue esitazioni iniziali, si fa coraggio. E compie il salto con un mix di determinazione e pura forza di volontà. Il suo tuffo vittorioso non solo conquista la scogliera, ma le fa guadagnare anche l'ammirazione e il rispetto dei suoi compagni di gara. Sfortunatamente per Esichiel, le altezze non sono il suo forte. Il suo viaggio a Campo Woganacqua subisce un brusco calo, perché fatica a trovare il coraggio. È un duro colpo per questo ragazzo di campagna, che si trova ad affrontare l'eliminazione già alle prime fasi del gioco. Nell'episodo successivo, i campeggiatori affrontano un'altra ardua sfida, ossia rimanere svegli tutta la notte. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma credetemi, è una ricetta per il caos. Con la stanchezza che si fa strada, i concorrenti ricorrono a tattiche selvagge e stravaganti, pur di evitare di dormire. I concorrenti possono fare di tutto, da raccontare storie all'impegnarsi in conversazioni ridicole e attività bizzarre. Man mano che la notte cala, la tensione sale. Duncan e Jeff finiscono tra gli ultimi due, rischiando l'eliminazione. I campeggiatori esprimono il loro voto e alla fine, Duncan sfugge per un pelo al suo destino, assicurandoci che il suo temperamento forte continui ad intrattenere gli spettatori. Successivamente i campeggiatori si affrontano in una classica ed energica partita dodgeball. È una battaglia di agilità, strategia e lavoro di squadra. L'episodio inizia con le due squadre, che entrano nell'arena del dodgeball pronti per un'epica resa dei conti. I concorrenti schivano, si abbassano, si tuffano e si lanciano palle l'uno contro l'altro. Le carpe assassine si dimostrano avversari formidabili. I loro attacchi coordinati, i loro lanci tattici, assicurano la vittoria alla squadra. Le sfide non si fermano qui. Preparatevi ad un'ondata di esibizioni che vanno da quelle che lasciano a bocca aperta a quelle che fanno rabbrividire. Dopo il ballo, il canto e il beatboxing di Harold ruba la scena, lasciandoci tutta a bocca aperta. Vincendo così la sfida, Justin deve lasciare l'isola. E a causa delle sue azioni, Gwen comincia ad essere ideata degli altri partecipanti che la considerano una vera str... So che è assolutamente banale, ma adoro i ragazzi che suonano la chitarra. Aspetta, io non so suonare. L'ha fatta proprio sporca. Puoi dirlo forte? Dicono che sono stata cattiva con Gwen. Pazienza. A me servivano quattro voti contro Justin. Successivamente il paintball incontra la caccia al cervo, in una sfida tanto ridicola quanto esilarante. L'abilità strategica di Trent assicura la vittoria della sua squadra, ma ci mancheranno i tentativi del flirt accattivanti, ma imbarazzanti, di Cody, che purtroppo lascia l'isola. Dopo questa sfida, le cose si scaldano in cucina, che si trasforma in un campo di battaglia e in una calda giornata estiva. Mentre i concorrenti si affannano a preparare i loro piatti, è chiaro che questa sfida sarà tutt'altro che una passeggiata. Mentre la tensione si fa sentire e il caos culinario si scatena, una cosa è certa, questa sfida è una ricetta per il disastro. Il ritorno di Izzy darà un po' di pepe alla situazione o lascerà i concorrenti con l'imbruciore di stomaco? L'insensabile appetito di Owen gli garantirà un'altra vittoria, anche se il suo stomaco dovrà fare un bel colloquio più tardi. I campeggiatori affrontano sfide estenuanti sotto l'occhio vigile e severo dello chef Hachett. La rivalità tra Gwen ed Heather raggiunge proporzioni epiche e Harold scopre rapidamente che forse la vita da militare non è la sua vocazione. Non avevo dubbi. Gwen conquista ancora una volta l'immunità e dobbiamo salutare Courtney. La sua eliminazione ci porta a chiederci se questa eliminazione alimenterà la rivalità tra i concorrenti. Quando prometto che mi vendicherò, vuol dire che mi vendicherò. Gli sport estremi rubano le luci della ribalta e i concorrenti si ritrovano ad affrontare sfide difficili. Che li lasciano alquanto malconci. E il ritorno di Courtney accende la passione con Duncan, mentre l'eliminazione di Bridget fa tremare il campo. E la fine della sua storia d'amore con i surfisti? Solo il tempo ce lo dirà. Vi siete mai chiesti cosa c'è nel menu del brunch del camp di Guawanacqua? Scrivetemi nei commenti la vostra teoria. Gravi crisi ipoplicemiche, se non assumo abbastanza su. Altro che crisi ti viene se non chiudi quella boccazza! I concorrenti devono digerire piatti strazianti e Owen, il tritarifiuto umano, regna sovrano. I concorrenti eliminati in precedenza tornano per una riunione speciale, che porta drammi, riflessioni e un'emozionante votazione del vincitore. Chi potrebbe mai essere? Vi sembrerà strano? Ma il pofuto Owen ne esce vittorioso, aggiudicandosi l'ambito premio di 100.000 dollari. Ora passiamo alla stagione 2. Il sipario si alza su un sequel di grande successo, e questa volta sul set di un reality show a tema cinematografico. Fin dall'inizio è chiaro che il dramma è il nome del gioco, con sfide ispirate ai generi cinematografici classici che spingono i concorrenti ai loro limiti. Negli episodi iniziali i nostri concorrenti si tuffano a capofitto nella follia dello showbiz. Immaginate costumi da mostro, invasioni aliene, e attori che non ricordano le battute nemmeno se le avessero tatuate sulla fronte. Alleanze e rivalità spuntano come erbacce in un giardino. Immaginate di cercare di mantenere le amicizie, schivando di schivolanti e sfuggendo persino alle mummie. Successivamente i nostri intrebiti concorrenti si ritrovano sulle rive di una spiaggia. Ma non si tratta di una tipica giornata in spiaggia con castelli di sabbia e gelato. Oh no, è una ricetta per il disastro. Salgono su un treno che è più caotico di uno scoiattolo in una caffetteria. Nel frattempo lo studio si trasforma in un campo di battaglia di ego, mentre tutti si contendono il proprio momento sotto i riflettori. Le eliminazioni scatenano accesi dibattiti. I nostri concorrenti affrontano una sfida a tema carcerario che farebbe sembrare a Alcatraz un accogliente bed and breakfast. E proprio quando pensano che non possa andare peggio, un'epidemia di influenza trasforma i set nell'incubo dei germofobici. Ma non preoccupatevi, la posta in gioco si alza sempre di più, portando ad un gioco strategico e a colpi di scene inaspettati. E ora è il momento che tutti stavate aspettando. E il premio, dopo aver sopportato tutte queste sofferenze, è un milione di dollari. Rischiereste la vostra vita? Chi uscirà vincitore e si aggiudicherà la gloriosa somma? Rullo di tambori La tensione raggiunge l'apice, con Bette e Duncan impegnati in un'epica resa dei conti finale per il tesoro da un milione di dollari. Che determinerà l'unico e vero vincitore. Il vincitore della seconda stagione di A Tutto Reality è... Ben! Ben! La terza stagione invece riguarda il giro del mondo con un pizzico di dramma. E non dimentichiamo i numeri musicali che possono variare da capogiro. Ah, per favore, fatelo smettere! Man mano che la competizione si scalda, i nostri concorrenti si trovano ad affrontare tutti gli alti e bassi dei viaggi internazionali. Immaginate di provare a vincere un milione di dollari navigando nella giungla della Giamaica, nei deserti dell'Egitto o evitando di essere divorati dagli squali. La competizione prende una piga regale quando i nostri concorrenti diventano re e regine nel cuore dell'Africa. Da bambina ero sicura che un giorno un gruppo di persone mi avrebbe venerato come una dea. Ma governare un regno comporta una buona dose di situazioni spiacevoli. E le alleanze si formano e si frantumano come fragili castelli di sabbia. È un po' come Game of Thrones, ma con meno draghi e più personaggi stravaganti. I nostri giri a mondo si ritrovano in una terra dei castelli, dei cavalieri e del caos medievale. La Germania, pensate alla danza degli schiaffi con un'altra persona che cerca di buttarla giù dalla pedana e alle gare di salsicce. È come una fiera rinascimentale con gli steroidi, con eliminazioni che tagliano più a fondo della spada di un cavaliere. Il viaggio continua nel cuore della Cina, dove i concorrenti devono affrontare sfide più complesse di un cubo di Rubik. Immaginate di cercare di decifrare antichi enigmi o di schivare le bacchette brandite da un cuoco gigante, per poi mangiare quanto più cibo cinese autentico possibile. L'evento principale della serie culmina New York e la costruzione di un manichino fatto di legno e ananas da lanciare nel vulcano. Non puoi pretendere che gettiamo i manichini nella bocca di un vulcano attivo senza l'equipaggiamento di sicurezza. Come dice il saggio, niente dolore lancinante, niente milioncino frusciante. Guarda come sono splendenti! Ma dopo aver vinto la sfida, quale sarà il destino del milione di dollari? Nella quarta stagione, il campo di Wawa and Aqua ha subito una trasformazione a causa della contaminazione radioattiva. Il campo estivo, un tempo paradisiaco, è ora un parco giochi pericoloso e imprevedibile. In questa stagione abbiamo alcuni nuovi personaggi, molto stravaganti. Vi presentiamo Mike, il ragazzo con più personalità. Davvero, è come se ogni 5 minuti uscisse fuori una persona diversa. Per un momento è un agente segreto, quello dopo è un mago pasticcione. Pucezo è, l'atleta più amichevole che si possa incontrare. Ha il cuore di un campione e lo spirito di un golden retriever. Joe invece è un osso duro. Mentre i concorrenti si adattano al nuovo ambiente, si riaccendono alleanze e rivalità alla ricerca di fama e fortuna. Le relazioni vengono messe alla prova preparando il terreno per un'epica resa dei conti, sfidandosi in varie sfide, tra cui attraversare una foresta piena di insidie radioattive. Nella prova finale di Arguzia e Forza, i concorrenti lo vistano in un mucchio di cianforsaggi per creare delle armature. Una volta indossate, ingaggiano epici duelli contro i loro avversari. È uno scontro di creatività, strategia e pura forza, in cui il cervello e i muscoli si scontrano per la supremazia. Dopo lunghe battaglie, emerge finalmente il campione finale. Cameron vince a Tutoriality la vendetta dell'isola! Da ragazzo bolla vincitore di un milione di dollari. Nella quinta stagione, i concorrenti preferiti dai fan tornano insieme ai volti nuovi per una battaglia di ingegno, strategia e resistenza. La stagione è divisa in due parti, All Stars e l'isola di Paketiu, ognuna di quali offre una serie unica di sfide e drammi. La stagione inizia con i concorrenti più amati dai fan di visi squadre di eroi e di cattivi. Vengono lanciati in una sfida che prevede l'attraversamento di un lago pieno dei ligatori mutanti. Non è esattamente una vacanza tropicale. I cattivi perdono e Lightring, non volendo affrontare la vergogna, si offre volontario. In un turbinio di sfide stravaganti, i nostri concorrenti si tuffano da una scogliera alle circa di chiavi sommersi in un lago, per poi fare una staffetta con un passeggino. Per non parlare di un'epica battaglia a palla nella foresta. La folia non si ferma quando i partecipanti devono attraversare tre zone insidiose, cercando sempre di tenere i ragazzi vivi. Quando la brillante sinistra Scarlett minaccia di distruggere l'intera isola, i concorrenti si imbarcano in una missione per sventare i suoi piani distruttivi. La scalata del mondo Everfast diventa la prossima missione, con l'obiettivo di assicurarsi una bandiera sulla cima. La seconda parte della stagione non fa una piga quando si tratta di proporre sfide oltreggiose e momenti esilaranti, dimostrando che quest'isola è un terreno fertile per l'imprevisto. Sapevate che Chris è finito in prigione? Questo è successo nella quarta stagione, dopo aver trasformato l'isola in un campo radioattivo. Ma forse questa non è la cosa peggiore che ha fatto durante tutte le stagioni di A Tutto Reality, compreso nella settima stagione che è uscita l'anno scorso, proponendo sempre le sue sfide stravaganti e che quasi uccidono i suoi concorrenti ad ogni episodio. Ma alla fine Chris è stato assolto proprio per poter condurre queste stravaganti sfide. E chi potrebbe farlo se non lui, insieme al suo amico fidato Chef? Avete mai visto A Tutto Reality? E qual è la vostra stagione preferita o concorrente preferito? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per altri video come questo. Alla prossima!